Oltre 450 milioni di euro di investimenti e poi più di 1500 ricercatori finanziati con 2600 progetti di ricerca e oltre 10.000 pubblicazioni, 475 le malattie studiate. Sono i numeri di Teleton che in questi anni ha raggiunto questi risultati grazie alla generosità degli italiani. E torna anche quest'anno la raccolta fondi per combattere le malattie genetiche rare. Parte domenica 11 dicembre con la maratona televisiva e radiofonica che coinvolge i palinsesti della RAI. Ma prima che cominci tutto noi vogliamo raccontarvi il metodo utilizzato da Teleton per arrivare alla cura di queste malattie. Claudia Pregno. A metà degli anni 70 diventa famoso un bambino con una malattia genetica rara. David Vetter ha un immunodeficienza grave. Qualsiasi lieve infezione è pericolosa per lui. Per evitargliele la NASA gli costruisce un involucro di plastica. La sua vita è stata breve comunque. Da allora tutti i bambini affetti da ADAS Kid vengono chiamati bambini bolla. Ogni anno la malattia rara colpisce 15 bambini in Europa, 350 in tutto il mondo. E a 45 anni da allora questi piccoli pazienti a cui manca l'adenosina di aminasi, enzima fondamentale per far funzionare le cellule del sistema immunitario, possono progettare la loro vita. Merito della terapia genica con cellule staminali messa a punto da Teleton, approvata dalla Commissione Europea. Grazie per darmi un'altra opportunità di vita. Lo hanno detto, togli la mascherina. La prima cosa che ha fatto il bambino è toccare la fascia della mamma. Lui è nato un'altra volta qua. La cura dei bambini bolla è stata la prima malattia genica su cui ha posto l'attenzione Teleton per passare dalla ricerca di laboratorio affine a se stessa al farmaco, efficace e disponibile per tutti. Questo è stato quello che abbiamo fatto con la terapia genica dell'Adaskid e dopo l'Adaskid abbiamo fatto per altre malattie, per esempio l'eucodistrofia metacromatica o la sindrome di Wisco-Taldrich. Più importante ancora adesso, perché è una malattia meno rara, ci stiamo avviando nella sperimentazione clinica per la cura della talassemia. Le malattie rare sono trascurate dai grandi investimenti perché riguardano poche persone. Per creare però una cura disponibile per l'Adaskid era indispensabile trovare chi i farmaci li fa. L'accordo del 2010. Siamo stati sufficientemente arditi ma anche sufficientemente fortunati per trovare accoglienza in questa nostra proposta e trovare quindi un'azienda che dicesse va bene, nonostante l'estrema rarità della malattia noi svilupperemo questo farmaco. Una storia, quella della television marathon iniziata nel 66 in America voluta da Jerry Lewis per la distrofia muscolare di cui era affetto il figlio arrivata nel 90 in Italia oggi ottiene risultati veri dati proprio dalle terapie trovate per i malati. Un modello a cui dovrebbero ispirarsi università e istituti di ricerca ma mancano i fondi in Italia e non solo. Con il tipo di ricerca che oggigiorno comporta la messa a punto di terapie personalizzate terapie che richiedono molto intervento di laboratorio sarà sempre più necessario che le nostre università e i nostri centri di ricerca si dotino di queste figure che capiscono anche degli aspetti regolatori dello sviluppo del farmaco che capiscano bene di come devono essere disegnati gli studi clinici per poter essere inseriti poi in dossier regolatori che arrivino all'autorizzazione del farmaco. Siamo ancora agli albori, il nostro paese è un po' indietro certamente i risultati dimostrano che se ci si dota di queste condizioni poi si riesce ad ottenere risultati importanti.